Ora spieghiamo la posizione sopra al mio avversario che sta in posizione di guardia farfalla. La posizione difensiva è quella di spingere con le mie mani sulle sue ascelle o in questo modo o col pollice verso l'alto. I gomiti sempre stretti, le braccia attaccate ai suoi fianchi e faccio pressione sopra di lui. E cerco, è molto importante, di non farlo sedere, quindi con la mia fronte spingo sul suo torace. Lui cercherà di mettersi in posizione seduta. Io devo cercare sempre di spingere questo. Questa è la posizione difensiva.